Mettemi la like per il prossimo video. No, non mettete lì. Ehi, no, 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 non mettete 50.000 like. Ok. E il mio nerf che adesso però lo sta usando, Mattia. Tanto non ci sono più proiettili. E il mio nerf è un retagliettaro. Tagliettaro. Che zibit? Ma non ce ne sono più colpi. Matteo. Non ce ne sono più colpi, però, papà. Non ce ne sono più colpi. Ehi, sonni. Adesso il mio fratello è uscito. Oh, fantastico. Ah, vediamo, vediamo. Il tiro del secolo che è andato male. Una palla. Perciò che adesso la prendo io. Sì, la racchetta ce l'abbiamo però. è fantastico. Guardate la mia bici. La mia bici è fantasticosa. 50.000 like per il prossimo video. Ciao.